Le regionali per Fratelli d'Italia sono ufficialmente partite alle scorse amministrative di Ascoli? Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo organizzato la nostra presenza nelle elezioni amministrative guardando alla regione, alla regione il prossimo anno. Così Ascoli diventa porta per tentare la riconquista delle marche da parte del centrodestra, o meglio, da parte di Fratelli d'Italia, se il nuovo primo cittadino scolano, Marco Fioravanti, dello stesso partito, ha vinto anche grazie alla regia del sindaco uscente Guido Castelli, in odore di passaggio da Forza Italia a Fratelli d'Italia. È in sostanza la risposta Ceriscioli a destra e la fuga in avanti rispetto alle mire di Matteo Salvini e della Lega, con a Castelli diversi gli amministratori in transito verso il partito di Giorgia Meloni, dal vice sindaco di San Benedetto Andrea Senti all'ex sindaco di Porto San Giorgio Andrea Agostini, cinque punti del programma verso le regionali avanzati da Fratelli d'Italia. Le sfide sono cinque che noi rivolgiamo all'amministrazione regionale uscente. Il primo è sulla ricostruzione delle aree terremotate, dove il flop della giunta regionale non è neanche da discutere, è visibile. Poi la sanità, assistiamo sempre più al ridimensionamento delle prestazioni, delle offerte. Poi le infrastrutture. Le marche pagano un prezzo altissimo alla mancanza di infrastrutture. Altro punto è la tenuta sociale della nostra regione, una volta un'isola felice. Questo intimamente connesso all'altro problema che sono le crisi aziendali, la perdita dei posti di lavoro. Tantissime fabbriche hanno chiuso, o si sono ridimensionati o altre aziende hanno delocalizzato nei paesi dell'Europa dell'Est.